topi costruttori gran lavoratori sono gentili che grande squadra vanno su e giù per costruire case si diverton tanto tutti a lavorare topi costruttori gran lavoratori sono brillanti che grande squadra giocano tutto il tempo costruendo case si diverton tanto tutti a lavorare topi costruttori gran lavoratori sono gentili che grande squadra vanno su e giù per costruire case si diverton tanto tutti a lavorare ah 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 Oh. Ciao. Oh. Olla. Olla. Da, ubbirapta! Davide, eh? Ah? Ah, ah! Oh, 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 oh! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ha, 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 ha! Ah, ah! Ah, ah, ah! Caca! Wee! Ah! 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 Oh, ah! 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 Ciao! BABY TV